Palladini, classi accorpate, i genitori non ci stanno, la protesta nella scuola già trasferita dal 2018 nei container al campo di Marte, dal prossimo anno ci sarà il taglio di una classe quarta. Un giardino in ricordo del maestro Giulio Cortopassi, lo spazio verde attrezzato è stato inaugurato a San Colombano, vicino alla scuola primaria. Un nuovo mezzo per la misericordia di Camporgiano, si tratta di un fuoristrada 4x4, adatto a raggiungere anche i luoghi di difficile accessibilità. Ecco il nuovo Porta Elisa, il futuro è adesso, spettacolare presentazione di quello che sarà il nuovo impianto, uno stadio fruibile a 360 gradi, una sorta di polo urbano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi, in apertura parliamo di scuola, di problemi relativi alla scuola, c'è una protesta da parte dei genitori dei ragazzi che frequentano l'istituto Palladini già nei container del campo di Marte da tre anni. Adesso la notizia che ci sarà un accorpamento di classi per il prossimo anno scolastico. Non ci stanno i genitori dei ragazzi del liceo delle scienze umane Palladini. Non possono accettare che due classi debbano essere accorpate e che parte dei ragazzi debba riprendere le lezioni il prossimo anno con la didattica a distanza, non per l'emergenza sanitaria ma per la mancanza di spazi. Oltretutto in una scuola che dal 2018 deve fare lezioni nei container nel parcheggio del campo di Marte. L'allarme è scattato dopo che il provveditorato, nel rispetto delle direttive ministeriali per evitare l'aumento dei costi per l'organico dei docenti, ha annunciato che il prossimo anno le classi quarte da cinque scenderanno a quattro, con conseguente accorpamento di due classi. E se gli spazi non saranno sufficienti si ricorrerà alla didattica a distanza, una prospettiva che ha suscitato la protesta dei genitori, in particolare dopo un anno e mezzo di emergenza Covid che ha pesantemente penalizzato proprio gli studenti. La scuola non si fa a casa, non si fa in una camera da letto o in un salotto, si fa frequentando. Già si frequentano i container, adesso neanche più questi. Dal muro siamo passati alle lamiere e dalla lamiera al salotto di casa. Cioè qui è tutto un peggiorare. Si stanno approfittando della pandemia per ovviare ai propri obblighi, secondo noi, cioè quello di dare ai ragazzi degli stabili sicuri e la prendono come scusa. Dopo... Quindi noi ad oggi non abbiamo una risposta, non ha risposto nessuno. Gli insegnanti del Paladini hanno espresso il loro dissenso con una lettera, adesso scendono in campo anche i genitori. Elena Boni, a sostegno della propria protesta, ha raccolto le firme di tutti i 183 genitori degli alunni delle attuali terze classi. Ragazzi che sono in Bucicattoli, in 16, diventeranno 29. Quando va bene, quindi prendiamo due classi e le mettiamo insieme. E cosa succede? La classica classe pollaio. Se va male, una classe verrà addirittura spezzettata, quindi segmentata, e tre o quattro ragazzi verranno smistati nelle altre classi. Quindi quel poco di attaccamento alla scuola che c'è stata dal salotto allo schermo e dallo schermo alla scuola fisica non ci sarà più. Che dobbiamo fare? Cambiamo scuola. A settembre, secondo me, nessuno si presenta, nessuna terza. Saltiamo direttamente l'anno. Perché è questo che vogliono a questo punto, che stiamo tutti a casa. Passiamo adesso al panorama dei contagi Covid, che si mantengono fortunatamente in discesa. Dati che non erano così bassi dal settembre dello scorso anno. Andiamo a vedere il quadro relativo alla regione toscana. I nuovi contagiati sono 90 e il tasso di positività è allo 0,6%. Questo il dato che non veniva raggiunto dal settembre dello scorso anno. I ricoverati attuali sono 374, 12 in meno rispetto a ieri, dei quali 84 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. I decessi sono 11, l'età media di 71 anni e mezzo, nessuno in provincia di Lucca. Il quadro provinciale, i nuovi contagiati sono solo 4, tutti nella città di Lucca. Nessun nuovo contagiato in Valle del Serchio e in Versilia. E ci auguriamo che la tendenza rimanga questa. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo nella piana di Lucca a Capannori per l'inaugurazione del giardino attrezzato intitolato al maestro Giulio Riccomini. Uno spazio verde attrezzato per ricordare una persona che ha fatto tanto per il paese di San Colombano. Nell'area adiacente all'ex chiesina di San Concordio di Rimortoli, in prossimità della scuola primaria, è stato inaugurato e intitolato il Giardino di Giulio Riccomini. Realizzato dal comune, il giardino si propone come un luogo per il tempo libero e il gioco dei bambini, dedicato al maestro prematuramente scomparso dieci anni fa, che per molti anni ha insegnato alla scuola primaria di San Colombano ed è stato membro del consiglio del comitato paesano. Durante la mattinata i colleghi e gli ex alunni hanno ricordato la figura del maestro Giulio. Al termine degli interventi è avvenuta la scopertura del cippo in pietra di matraia in ricordo del maestro. Durante la cerimonia è stata distribuita una piccola pubblicazione intitolata Il maestro Giulio, una missione di vita, testimonianze e immemoria di Giulio Riccomini, edito dal comune nella collana Capannori persone e comunità, che raccoglie testimonianze di ex alunni, colleghi ed amici. Intanto l'inaugurazione di un parco è sempre una festa importante perché è un luogo per la comunità, un luogo di incontro, un luogo di crescita, un luogo di ritrovo, dove la comunità appunto si aggrega e cresce. E accanto all'inaugurazione del parco c'è l'averlo voluto dedicare ad un maestro, a Giulio Riccomini, che ha fatto un po' la storia di questa frazione, di questa scuola che teneva molto al recupero della chiesina del 1100, ma che è stata una persona molto impegnata sul fronte civile a vari livelli e quindi è giusto che la comunità, è giusto che il comune ricordi le persone che hanno contribuito alla propria crescita. Andiamo in Garfagnana per la notizia che sarà donato, un nuovo mezzo fuoristrada alla misericordia di Camporgiano, una notizia importante in un territorio a volte difficile come quello della Garfagnana. Vediamo il servizio di Luca Galeotti. Tra coloro che hanno partecipato e beneficiato del bando 2020-21 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dedicato alle categorie sociali deboli e alla salute pubblica, c'è anche la misericordia di Camporgiano, che ha ottenuto 20.000 euro, quale contributo per l'acquisto di un mezzo 4x4 funzionale a raggiungere e supportare un maggior numero di persone, soprattutto anziani residenti in luoghi isolati. La sede della misericordia di Camporgiano è stata visitata alcuni giorni fa dal presidente della Fondazione Marcello Bertocchini. A fare le onore di casa è il governatore Sergio Orlandi, che ha guidato Bertocchini alla scoperta di tutta la struttura, che vanta circa 150 volontari attivi e rappresenta un punto di riferimento importante non solo per la Garfagnana, ma anche per tutta la Valle del Serchio, e che offre anche i suoi servizi con un mezzo al 118. Bertocchini è rimasto molto colpito dall'organizzazione e dallo spirito che anima questo sudalizio. Prattutto fa soddisfazione riuscire a contribuire a far sì che la cosiddetta sanità territoriale, molto importante, soprattutto ora in questo momento di pandemia, riesca effettivamente a venire incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. E da quello che abbiamo potuto vedere oggi qui, quello che ci è stato raccontato, la funzione delle associazioni con le misericordie sul nostro territorio, è veramente insostituibile. Grazie dunque anche e soprattutto al contributo della Fondazione, a breve la misericordia potrà dunque aggiungere al suo parco mezzi anche un veicolo 4x4, perfetto per raggiungere luoghi impervi. Grazie a questo contributo verrà acquistato a breve un SUV, un mezzo per la protezione civile che ci permetterà di essere ancora più efficienti, preparati, pronti e avere il giusto e necessario per intervenire là dove ci sarà bisogno. È una spesa notevole per questo mezzo, ma grazie a questo contributo a breve l'avremo e avremo il piacere di invitare il Presidente alla inaugurazione ufficiale di questa donazione che con piacere abbiamo accettato e ringraziamo di cuore. Torniamo a Lucca perché prende il via la raccolta di fondi promossa da Unicoop per il restauro del tempietto del Nottolini. Prende il via il crowdfunding abbraccia l'acquedotto del Nottolini, promosso da Unicoop Firenze e dalla sezione Soci Coop di Lucca per sostenere il restauro del tempietto di San Concordio. L'iniziativa si pone non solo l'obiettivo della riqualificazione del monumento, ma anche quello della partecipazione con una serie di collaborazioni ed eventi per far conoscere ai lucchesi e non solo l'importanza dell'opera di Lorenzo Nottolini. Come si svolgerà la raccolta di fondi lo ha spiegato Daniela Mori, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze. La nostra sezione Soci sul territorio organizza eventi, attività e iniziative attraverso le quali far conoscere quest'opera, raccogliere fondi. Lo faremo anche attraverso i nostri supermercati. Quello che le persone metteranno a disposizione sarà raddoppiato dalla nostra cooperativa. È un modo per intervenire su un'opera che è identitaria per Lucca e per farla in qualche modo partecipare a tutti i cittadini. Lucchesi e non solo, perché poi le visite intorno all'Acquedotto saranno rivolte anche ai non lucchesi, quindi ai cittadini toscani. Fra le attività Unicoop organizza le camminate urbane, in programma dall'11 giugno al 19 settembre, con ritrovo e partenza in Piazza Antelminelli, presso l'ingresso dell'auditorium della Banca del Monte. Il percorso toccherà tutte le fontane monumentali progettate da Nottolini fino a raggiungere il Tempietto di San Concordio, un percorso particolare nella Lucca del 1800 assolutamente da non perdere. Spostiamo a Pietrasanta, Comune, Regione e Ministero uniti per la fondazione che gestirà il Museo Mitorai. Anche la Regione Toscana, insieme al Ministero della Cultura e al Comune di Pietrasanta, sosterrà il Museo Mitorai e la fondazione che dovrà gestirlo. Firenze è pronta a contribuire con quasi 2 milioni di euro per arrivare all'apertura della struttura, che sorgerà al posto del vecchio mercato coperto. Di questo si è parlato in un incontro in diretta Facebook, organizzato e promosso dal Partito Democratico di Pietrasanta, che ha coinvolto, accanto agli esponenti locali, il Presidente della Regione Eugenio Gianni e il Ministro Dario Franceschini, che nel 2016 aveva messo a disposizione 2 milioni di euro alla loro amministrazione Mallegni, per realizzare il museo con le opere donate dalla famiglia del celebre artista. In questo progetto molto ambizioso, per recuperare un immobile, io ho visto il rendering, che potrà diventare davvero molto attraente e adatto alla maestosità dell'estate di Mitorai. Bisogna che sia un grande progetto nazionale, su questo stiamo lavorando, stiamo concludendo gli atti per la fondazione. Adesso abbiamo dovuto rallentare un attimo, proprio per consentire a pieno titolo l'ingresso della Regione. Insomma, io credo che il percorso arriverà a compimento in fretta, quindi l'idea è di andare avanti parallelamente. Il progetto da una parte, che sta seguendo la realizzazione, come sapete la sta seguendo il Comune, e invece il progetto museale vero e proprio. Insomma, io credo che potrà diventare una grande cosa, che sarà un modo non soltanto di onorare la memoria del grande Mitorai, ma anche un modo per rendere Pietrasanta quello che le si deve. Ad allargare di recente il quadro istituzionale alla Regione è stato proprio il ministro, come ha affermato il governatore Gianni. Io naturalmente questo l'ho accolto a braccia aperte. Certo, comporterà un impegno di spesa, che abbiamo concordato fra il milione e mezzo e due milioni, però io ho già verificato, possiamo fare la variazione di bilancio e inserirla, perché è un arricchimento e un patrimonio per tutta la Toscana. Intanto slitta in avanti la consegna dei lavori della struttura. Prevediamo l'apertura entro l'inizio dell'estate 2022, spiega l'assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci. Sono in corso ulteriori approfondimenti sul piano strutturale, in particolare in materia di adeguamento sismico, che hanno rallentato i lavori. L'obiettivo, afferma l'assessore, è fare dello stesso museo un monumento che sia attrattivo per i visitatori. Al liceo classico Machiavelli di Lucca si è tenuto un incontro letterario dedicato a Giovanni Pascoli, durante il quale è stata ricordata la figura del professor Vincenzo Placido, recentemente scomparso. Placido, autore del saggio romanzo Zvani, il fanciullino di casa Pascoli, era legato all'Istituto Civitali per i lunghi anni di insegnamento e vicepresidenza. Durante l'evento al quale hanno partecipato la dirigente scolastica Maria Cristina Pettorini, il coordinatore dell'ufficio scolastico provinciale Duccio Di Leo, l'editore Andrea Giannasi e Beniamino Placido sono state donate copie del libro agli studenti del liceo classico Machiavelli, del Paladini e del Civitali. Ancora a Lucca per la presentazione del Festival della Sintesi che si terrà il prossimo luglio. 12 appuntamenti nello spazio di 8 giorni. Questo è il programma della sesta edizione del Festival della Sintesi che a luglio nella chiesa di San Cristoforo torna a parlare di brevità intelligente nell'arte, nella letteratura, nel cinema, in tv e sui social. Promosso dall'associazione Dillo in Sintesi con il sostegno delle fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte, del Comune di Lucca Promos e con il patrocinio della provincia, il Festival è stato presentato in San Micheletto alla presenza del suo ideatore Alessandro Sesti. La rassegna si apre sabato 24 luglio all'insegna della Sintesi nell'arte. Verrà infatti inaugurata la mostra Uno Fontana che espone una sola opera d'arte, concetto spaziale appunto di Lucio Fontana. Poi il via agli appuntamenti con tanti personaggi, dall'attrice e scrittrice Lella Costa al disegnatore Sergio Staino fino al virologo Fabrizio Pregliasco. Ciliegina sulla torta la consegna di due premi a due illustri personaggi della televisione. Il premio alla carriera l'abbiamo istituito proprio quest'anno e ovviamente l'abbiamo considerato questo grande personaggio a Vincenzo Mollica per tutto quello che ha fatto sia in televisione in tutta la sua carriera basta ricordare la sintesi che faceva dal terrazzino di Sanremo ecco per capire un po' il personaggio ma è inutile neanche presentarlo e poi diamo il premio invece televisivo sulla sintesi a Domenico Iannacone per le sue trasmissioni Dieci Comandamenti e che ci faccio qui. Un personaggio che veramente anche lui non ha bisogno di presentazione ma gli diamo questo premio perché li vogliamo bene è un personaggio veramente piacevole e delizioso che fa le sue opere come autore soprattutto non solo come presentatore. È tutto per la prima parte del TG ora la pubblicità e subito dopo lo sport.